Gian innamorato! Seconda parte! Come facciamo ad arrivare alla porta? Dougie, dove sono i palloncini? Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Trasformiamoci tutti in conigli saltellanti! Siete ancora nella vostra bozzana? Il vincitore! Come mai non indossano i cappelli? E come facciamo a raggiungere la nostra prossima porta se questi piccoli dinosauri non ci fanno passare? Buopo! Ecco! Ecco! La camera delle porte! Coraggio amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! I pinguini stanno buttando giù le terri bloccandoci la strada! Come raggiungeremo la nostra porta? Mi dispiace! Questo non l'ho visto! Hai detto che avevi visto tutto! Speriamo che vi piaccia tanto! Un ursacchiotto! Per me e per il nonno! È uno splendido regalo, Peppa George! Come facciamo a passare in mezzo a tutti questi cubi che corrono? È troppo scivoloso e sono proprio davanti a noi! Perché questi grossi colibri non ci lasciano passare? Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato! Sei aggrappato a un arbusto e non morirà di fame! Perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno! Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? Pato dice che deve prendere l'aereo e ha dimenticato la valigia! Suitcase! Ah, povero Pato! Sapete dire a Pato quanti cuori, hearts, ci sono? Five! Five hearts! Esatto! Five! Cinque! One! Uno! Esatto! Ma perché questi sciacchistruzzi non ci lasciano passare? Goodness! Oh, Pato! Sapete dire a Pato quanti cuori ci sono? Three! Three hearts! Esatto! Three! La bauta! Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato! Sei aggrappato a un arbusto e non morirà di fame! Perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno! Quindi non è stato un mostro! Fiu! Deve essere un fuoristrada giocattolo costruito con un acciaio davvero super indistruttibile! Viva Sandrino! Finalmente ce l'ho fatta! Ho creato Robot Dracula! Ha 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 ha! 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 Guardate questi jackie dal buffo aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui! Ehi! Spostati per favore, babbuina! Perché questa babbuina non vuole farci passare? Ah, povero Pato! Sapete dire a Pato quanti cuori, hearts, ci sono? Five! Five hearts! Esatto! Five! Cinque! Dougie è il distintivo della pittura! Salve lupetti! Chissà che cosa avrà in mente Dougie per voi oggi! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Eccellente! Hanno risolto il puzzle delle forme! È uno struzzo! È uno struzzo! È uno struzzo! Preziosi collection! Eccola lì! Ciao amici! Che bello che siete qui! Nel mio castello c'è proprio un cattivo odore oggi! Ha ha ha! Cirillo è di nuovo qui con voi in diretta dal luogo dell'atterraggio! Maialino no! Che cosa ci puoi dire di questa tua esperienza di volo con dei palloncini? È stata un'avventura straordinaria! Ma sono molto più contento di essere tornato sulla terra sano e salvo! Devi ringraziare Sandrino per questo! Dietro la porta numero tre troverete ciò che cercate! Ecco! Guardate! La ballerina sulle punte! Trovate quelle tre porte e troverete la deliziosa ballerina sulle punte! Ma che razza di fantasmi sono questi? Sapete perché sto memorizzando le tabelline? Perché così alleno la memoria! Se non ricordate perché non vi siete allenati abbastanza e potrebbe accadermi una storia così! La patina accendi tutto! La mia fattoria è completata! Sarà il più grande castello... E sono quasi sicuro che quel ladro di dolcetti... Ho avuto soltanto una cliente oggi! Il 9 è ora del tuo schianzetto di Halloween! Pazienza, Yagzo! Mezzanotte è vicina! Indossate il sorriso migliore per questa festa di Halloween! Ah! Così va molto meglio! E ora? Il giorno! La valenotte era azzurra! Tip Toy! La rivoluzione del gioco interattivo!